Un convegno su ciò che impedisce i disabili di interagire con la città. Questo problema non riguarda solo le persone con accessibilità, con i diversamente abili, ma riguarda un po' tutti, perché riguarda i bambini, per esempio, riguarda gli anziani e quindi le problematiche poi sono veramente tantissime. Ci sono situazioni diverse relative alla nostra ergonomia, per esempio. È chiaro che le problematiche che deve affrontare un bambino alto un metro sono diverse da quelle che deve affrontare una persona anziana o una persona normale. Però di questo non si tiene conto. Sono organizzazioni internazionali che sono venute a questo convegno ed è stato anche interessante vedere le esperienze che vengono da altri paesi, ma soprattutto è interessante che ci sia questa rete mondiale che cerca di affrontare questi problemi. La nostra città potrebbe essere al centro di un progetto che affronta queste situazioni perché è una città dove sono presenti gli edifici storici, sono presenti i musei, sono presenti gli edifici nuovi e sono presenti quindi tutte le condizioni in cui occorre far sì che ci sia una fruibilità dello spazio da parte di tutti. Grazie a tutti.